Ormai alle porte le consultazioni elettorali e amministrative di maggio. Sanità e ospedale Santa Lucia, cosa è rimasto di tutto quello che avevamo? Poca cosa, iniziando dai lasciti fatti dai recanatesi, che sono state le prime cose che sono andate via. Il reparto medicina non c'è più, il reparto chirurgia non c'è più, pediatria e ostetricia non ci sono più. Praticamente è rimasto una lungodegenza, un desergeri, un punto prelievi, un punto di primo intervento con i medici della medicina che fanno da spola da reparto all'altro e la radiologia che è di supporto al punto di primo intervento. La dristezza è che è sempre più il vuoto che prende campo, la gente deve andare in giro per le marche. In pratica siamo ridotti quasi a zero. Sì, effettivamente la nostra sanità è arrivata a un punto di non ritorno. E quindi noi diciamo proprio basta l'uso politico della sanità, perché in realtà che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato la sanità ad uso politico. Qui purtroppo nella nostra realtà stiamo vivendo una situazione veramente degradante, perché abbiamo perso ogni tipo di servizio. Basta vedere sul primo punto di intervento che purtroppo prima hanno fatto delle cose, delle costruzioni, poi hanno tolto tutto e ora ci troviamo con medici che da un altro reparto debbono svolgere anche questo servizio. Quindi è una situazione che la gente deve necessariamente rivolgersi altrove ed intasare gli altri punti di primo intervento o pronti soccorsi come Civitanova e Macerata e che purtroppo sono veramente intasati e che succedono tutti i giorni situazioni incresciose. Servizi in uscita allora, sanità pubblica che sta cedendo il passo a quella privata. Purtroppo sì, noi ci siamo battuti, ci batteremo ancora, perché la sanità deve rimanere pubblica, è fondamentale. Il pubblico non può essere scalzato dal privato. Il privato è giusto che ci sia e che faccia il suo lavoro, ma per i cittadini trovare una sanità pubblica è fondamentale. E Reganati dava un'ottima risposta. Questa non è servita perché è stato l'unico ospedale che è stato chiuso, senza tenere conto dell'utilità e del punto strategico dove si trovava Reganati, che è a 30 chilometri da tutte, ci aveva un bacino d'utenza che era di 70.000 persone in inverno e 120.000 persone in estate. Era una risposta eccezionale per questo territorio. L'hanno bruciata. E adesso cosa succede? Rimaniamo così malmessi o c'è speranza in qualcosa di positivo? No, la speranza è l'ultima a morire. Noi abbiamo sempre combattuto sia con il Comitato a difesa dell'ospedale Santa Lucia e proseguiremo appunto nell'ambito di questa campagna elettorale a combattere a favore dell'ospedale, perché crediamo che con la nuova legge dell'Unione dei Comuni si possa ridisegnare un territorio più ampio e di conseguenza ridisegnare anche il ruolo della sanità pubblica. E quindi siamo fortemente convinti che dovremmo in qualche modo lavorare per cambiare la situazione politica nella città.